Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io di JFR98 In questo video faremo un gameplay su Star Conflict Giocheremo a modalità Domination Anche qui dopo 4 mesi riprenderemo a giocare a Star Conflict Vediamo cos'è cambiato perché è la prima volta che ci gioco insieme a voi Sono fedele al mio Hercules Rage ragazzi Perché veramente mi ha portato molte, molte vittorie Iniziamo subito Uh, ammettiva questa parte Ok, l'obiettivo qual è? E di conquistare i tutti E di anche evitare di farci uccidere se fornire Aspita Ecco, sono sbagliato Oh, ci seguono No, 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 no No, sto perdendo energia No, ma sono veloci, sono veloci Oh, io me ne vado Io Ci credo, sono ancora vivo Niente, ho schermiato con un po' Forse molto forte, soprattutto dal punto di vista dell'attacco Che termina, cioè di piccioni Ok, andiamo avanti Nonostante io albi e ping alt Cioè, anche qui il server si è rincoglionino Perché io ho 40 dali ping alti Non riesco a capire per forza, va bene Ok Vediamo un po' Che diciamo fare Qualcosa Ok, uno è andato Dai, dai, dai No, ce l'oscuro, fai bastando No, vabbè, ce la posso fare No, ce l'oscuro No, pensavo di averlo fatto fuori Bastardo Quanto stiamo? Stiamo perdendo Ovviamente Mi piace la mappa Devo dire Mi piace molto la mappa Però anche difficile Perché soprattutto queste mura Che c'è di Di gioco di sette E soprattutto quando vai a lanciare un missile Oh, distrutto Dio, questo è un droide Ok Un drone, non un drone No, no Oh No, no, perdo quota Perdo quota Perdo quota, perdo quota No, no, perdo quota E' fatto un po' di nati Comunque Chiediamo un po' Sono a 129 punti Poco Siamo Abbiamo Eh, abbiamo preso Stiamo prendendo A Forse riusciamo Siamo in vantaggio Siamo in vantaggio Buono Abbiamo capturato Capturato un po' di rob Eh Resistere Cioè sopravvivere È un po' complicato Oh Oh Che è successo? Ok Ci ha aperto Il menu No Mi ha capito un missile Ok Meno uno Qui ci sono dei droni Che si riescono a fare cuori Eh, non c'è solo un drone Però Lo riesco a cuori No 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 Qua ti devo fare cuori Sì Dove vai? Dove vai? Dove vai? Ti andiamo a cuori No Mi ha avuto un po' Che cosa fare? Non c'è solo un po' I droni Ecco Dai, dai, dai Ti aiuta a conquistare Ti aiuta a conquistare Ti aiuta a conquistare Forza Forza Dai che rimontiamo Ok ci siamo Ok vediamo un altro Che è andato anche quello Fantastico Era impossibile Era molto Indibili Punto Vediamo un po' stiamo vincendo siamo 411 L'amico sta perdendo Nella situazione si lo farò più punto in più rispetto a prima Avevo a scuogliarsi sempre qui Io sono come c'era arrivato io Io devo cominciare a mi sortire di darlo a sparare E distruggere Così distracco un po' e ci guadagniamo Allora ci facciamo un secondo Ce l'abbiamo fatta Allora ci facciamo un po' e ci guadagniamo Questo P2P Vediamo se troviamo una cosa E Autical C Ok Weapon Dermal E I più di po' Bene ragazzi Spero vi sia venuto Questo video Prossimo video Di Star Conflict La serie Continuerà Schriveteli nei commenti Se volete Qualche propone O scrivere Qualche proposte O quello che volete Vi auguro un buon proseguimento Tutto quello che stai facendo Perché il GF Tornerà Il più presto Possibile Sì Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.